La fedeltà è una cosa che non capisco. Trovo di una noia mortale dormire con la stessa persona per tutta la vita. Un tasso di testosterone è incredibilmente alto. Non è raro in donne come lei. E come sarebbero le donne come me? Intelligenti, potenti. Credo che mi abbia mandato un messaggio. Cosa? Ti ha mandato un messaggio? E tu cosa hai risposto? Mi scusi. Lo dice che vuole rivederti e tu rispondi mi scusi. Sono la babysitter. Nessun problema. Non me la immaginavo così. Così come? Con le tette. Ah, è questo che ti dà fastidio? Che tu hai i seni piccoli? Che ho i seni piccoli. Vuoi farti rifare? Tu vuoi farti rifare il pisello, un bel pisello? Sono cornuta! Scusate, ho le corna. Faccio fatica a passare dalle porte. Non è niente quella donna, niente! Vuoi essere mia moglie. Si tratta di mie amiche d'infanzia, che mi adoravano e che io vorrei ricontattare. Quello che non dicevamo di te a scuola. La frase top era, le caverai gli occhi a quella puttana. Quella strutta! Non voglio matta di prenderti. Anch'io! Non ne posso più, Pierre. Voglio essere una donna, Eiko. Perché io sono una donna, non soltanto una mamma. Voglio dello champagne. Voglio le bollicine. Voglio vederle scoppiare. Voglio arcobalini nel cielo anche quando non piove. È questo che voglio, Pierre. E tua moglie? Sono single. No! Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why.